Ingredienti per 4 persone 2 astici, un mezzo, cipolla, un carota, un gambo di sedano, limone, sale, pepe in grani Tra 4 e 6 fettine pane tostato, caciocavallo Cuocete gli astici 6 minuti in un corte bouillon, brodo aromatico per cuocere il pesce Preparato con cipolla, carota, sedano, limone, sale e un pepe Puliteli e mettete da parte la polpa Per la zuppetta 100 grammi lenticchie secche ammollate per una notte in acqua fredda, un carota, cipolla, un gambo di sedano, un pomodoro ramato, olio evo, sale, pepe Tagliate tutte le verdure a dadini e rosolatele in una casseruola con l'olio Aggiungete le lenticchie Bagnate con acqua e cuocete, regolando di sale e pepe Mettete le lenticchie nelle fondine Adagiatevi sopra l'astice e guarnite confette di pane tostato al forno con caciocavallo Bagnate con acqua e cuocete, regolando di sale e pepe